ciao e bentornati sul canale oggi non recensiamo niente perché non ho niente in mano e niente c'è l'elfo domestico nella sua posizione naturale ci fa arrivare una cosa strana di che cosa si tratta aspetta faccio vedere io allora non sappiamo niente allora sappiate che non è una panina leggera ma pesa una quintalata eppure sulla confezione da cui arrivano c'era scritto tattoo tattoo c'era scritto quindi dovrebbero essere i tatuaggi ma come fanno di tatuaggi a pesare così tanto adesso staremo qui un quarto d'ora 20 minuti il tempo che sarà riesco ad aprire la confezione no ma non abbiamo premura allora intanto io vi invito a iscrivervi al canale a commentare a schiacciare la campanella nei prossimi video non riesco prossimi video mettere un like condividere il video se avete altri social e comunque un like non lo si lega a nessuno noi ci mettiamo molto stiamo aspettando che qualcuno ci apra la confezione perché non siamo riusciti quelli non sapevano aspetta spoiler di così non sapevano quando mi metto io questi video eh mi fai vedere la roba che ho appena aperto no cosa ma tatuaggi o tatuaggi o tatuaggi o questa la capiscono in due io non sono uno di quelli allora aspetta aspetta perché secondo te pesa così tanto perché c'è la pasta modellabile dici apriamo aprilo qua davanti a noi ah su che bazzata vai a far pugile ma che pasta ecco è pasta modellabile ma sarà squishy no sarà c'è solo un tatuaggio pasta clay magari o di do eh di do mi sa allora questo è il tatuaggio scritto al contrario ovviamente perché va attaccato su ah proprio così brutalmente che pasta è? è di do è di do tipo pasta di do viola quindi quantomeno potete decidere il colore quando scegliete la palla questo è un micro tatuaggio che potete fare quando volete si bagnano si appiccicano si bagnano e poi si tolgono e rimane sulla superficie del sole ma profuma no no puzza di do perfetto quindi quella è la pasta questa è la pallina viola e quindi potete scegliere il colore la recensione finisce qui noi siamo appassionati più di pasta clay che di pasta di do però anche la pasta di do ha il suo perché soprattutto se la cosa stai facendo e poi tanta comunque non è poco eh sì anche perché è una quantità così cioè tanta tanta così non secca va bene è lei che secca un po però eh vada 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 va bene a questo punto come sempre niente soletico finiamolo qui come sempre non ci vediamo ci vediamo in prossimo video ciao